Un altro importantissimo obiettivo è stato raggiunto a Gela da Caltacqua nell'ormai decennale gestione del servizio idrico integrato sullo territorio della provincia di Caltanissetta. Dopo i risultati ottenuti nei mesi scorsi a Niscemi, da qualche giorno anche a Gela, nel quartiere Marchitello la distribuzione è garantita 24 ore su 24. Inoltre, sempre a Gela, nelle aree che sono servite dall'asservatoio Spina Santa, adesso l'erogazione idrica avviene nelle ore diurne, come più volte sollecitato dai residenti e dal sindaco Domenico Messinese. In entrambi i casi si tratta di risultati rilevanti che il gestore, impiegando esclusivamente proprie risorse economiche, ha potuto conseguire grazie al lavoro assiduo delle proprie mestranze e dei propri tecnici che hanno eseguito interventi di manutenzione straordinaria, sostituito tratti di condotta, monitorato livelli di portata e di precisione. Tutte manovre e test perfettamente riusciti, che nonostante qualche disagio arrecato alla cittadinanza, alla fine, dice una nota di Caltacqua, hanno consentito di garantire all'utenza del quartiere Marchitello l'erogazione idrica costante durante l'intero arco della giornata. Un risultato pianificato da Caltacqua con la giunta comunale nell'ambito dei tavoli tecnici convocati dal sindaco che fa il paio con quello analogo, che era già stato raggiunto in precedenza nella zona Macchitella, già da tempo in regime H24. Oggi dunque cresce la percentuale del territorio di Gela che è servito da una distribuzione idrica 24 ore su 24, che il gestore ritiene di incrementare ulteriormente nei prossimi mesi. Per Caltacqua ciò non rappresenta un punto di arrivo, ma uno snodo importante lungo quel percorso di costante crescita della propria gestione sul territorio dell'intera provincia di Sena che tende a garantire ad un numero maggiore di cittadini un servizio sempre migliore ed efficiente, con particolare attenzione alle tematiche di carattere ambientale, alla sicurezza e all'erogazione continua H24.